Benvenuti, benvenuti cari amici, siamo Ubi di questo nuovo video. Oggi ne ho parlato di Uobi perché ci sono importantissime notizie. Serverebbe che Uobi sia sostanzialmente a rischio, insolvenza. Naturalmente andrò a vedere il tutto all'interno di questo video. Ma prima ti ricordo di iscriverti alla mia live del 19 di gennaio alle ore 21. Trovi sotto il link in descrizione e diventa anche tu un cripto cowboy. Ti sei registrato? Lo hai fatto? E per cui iniziamo subito. Andiamo subito a vedere i top gainers, top losers di giornata GRT più 9,9%. LidoDAO più 7,7%. Al contrario troviamo X col meno 5,4%. Ma oggi focus su Uobi perché sembrerebbe che potenzialmente potrebbe arrivare un nuovo scandalo simile a quello di FTX. Andiamo subito a vedere il tutto perché Justin Sun sembrerebbe aver mosso, pensate, 100 milioni di dollari in stablecoin verso Uobi. E sembrerebbe che un'ondata di prelievi in questo momento stia sensibilmente colpendo Uobi. Vi ricordo che Justin Sun è anche high advisor di Uobi. Tra l'altro Uobi conferma il licenziamento del 20% del personale ma smentisce le voci sull'insolvenza. E vorrei soprattutto riportarvi quelli che sono alcuni tweet da parte di alcuni di quelli che sono i maggiori esponenti del mondo crypto. Il primo da parte di Travis Kling che afferma che la situazione attuale su Uobi non è il massimo. E fossi in voi, secondo me, è una cosa da pazze tenere gli asset su Uobi in questo momento. Da mio punto di vista, in generale, è da pazzo che tenere la maggior parte degli asset sull'exchange in generale. Però in questo momento su Uobi più che su altri. Non lo puoi vedere in particolare anche quelle che sono le metriche. In secondo luogo, Gallam afferma che addirittura i principali impiegati, i lavoratori Uobi, non avrebbero più accesso ai canali di comunicazione. Quindi questo è un altro elemento fondamentale perché magari loro potrebbero comunque spoilerare quello che sta avvenendo su Uobi in questo momento. E secondo me la cosa che più, tra virgolette, terrorizza è la seguente. Perché andiamo a vedere quella che è la liquidità di Uobi in asset al momento, che è pari a 2.6 miliardi. Però vorrei riportarmi una cosa. Il 40% di questi 2.6 miliardi è nel token HT. Abbiamo visto, e poi lo vedremo, che il token HT ha subito un grave dump. Quindi se, e sottolineo se, il token HT, quindi tutti i principali clienti di Uobi andassero, o chi è ad amparlo, lo stesso Justin Sun, o chi può ad amparlo senza problemi. Io penso che Uobi rischia letteralmente l'insolvenza. Non dico che è molto probabile, però è altamente probabile. Anche perché, a fronte di un 40% del token HT, abbiamo solo un 14.3% di collaterale in Bitcoin. E pensate, solamente circa un 20% in USDT e USDC. Tra l'altro voi sapete quanto a me non piace a USDT. E quindi questo è un altro elemento che è da considerare. Quindi secondo me Uobi in questo momento è a grosso rischio. Insolvenza ovviamente non è mio obiettivo creare FAD, perché non ci guadagno assolutamente nulla. Però io voglio riportarvi che quelli che sono i dati, tra l'altro rispetto a ieri, guardate qui i volumi, sono calati addirittura il 45%. Quindi qualcosa su Uobi in questo momento sicuramente sta avvenendo. Vorrei mostrarvi anche gli ultimi 7 giorni. Guardate qui che dump abbiamo avuto addirittura un meno 25%. Quindi la situazione su Uobi non è assolutamente buona e naturalmente sappiamo come noi all'interno del mondo cripto siamo tutti fortemente collegati. Tra l'altro quello che vi ho detto io è anche riportato da Daward, che afferma che Uobi ha una significativa porzione dei riserve proprio nei suoi token. Non penso che sia il massimo della vita avere una cosa simile. E poi c'è Simkid che dice potrebbe essere FAD, ok assolutamente sì, però anche lui ritiene che in questo momento ottenere i propri asset su Uobi risulta essere potenzialmente una montagna di rischio. E tra l'altro ci riporta anche questa chat che insomma aiuderebbe al fatto che potenzialmente Uobi potrebbe essere addirittura insolvente. Ma ora andiamo a vedere un po' di dati, ok? Perché questi sono quelli che contano il mondo cripto. Giornate ieri sono stati prelevati, pensate, 60 milioni di dollari, ok, di outflow su Uobi. Sostanzialmente c'è stato un dump del 9.5% nell'ultima settimana. E vorrei riportarvi, ok, questi dati. Guardate qui il net flow, cioè se voi fate in flow meno outflow, cioè quanto denaro è entrato rispetto a quanto denaro è uscito, Uobi è sotto di 63 milioni in questo momento. Rispetto ad Electric Exchange è molto di più. Guardate qui, Kraken meno 21, questi sono i peggiori, ok? Paxos meno 14, Crypto.com meno 11, quindi se continuerà così Uobi rischia davvero, ma davvero molto. Ora Justin Sun, che naturalmente è advisory, ok, di Uobi a partire da ottobre del 2022, afferma che Uobi, ok, avrà un forte successo, questo è fad, bisogna ignorare. E ora che c'è il bear market, bisogna assolutamente costruire. Voi sapete, ok, come a me non piace Justin Sun, è già stato autore di vari scam e soprattutto quello che voglio ripetervi, per quanto riguarda USDT, il 60% di USDT gira su rete Tron. Justin Sun è il creatore di Tron, quindi fate 2 più 2 anche su Uobi, ok? Quindi potenzialmente sembrerebbe tutto collegato. Io aspetto solo l'innesco, ok, di quella bomba ad orologeria, che potrebbe darci, secondo me, un'altra grande opportunità, ok, per quello che il mondo delle criptovalute. Poi, altra notizia molto importante è anche la seguente, perché sembrerebbe, ok, che Justin Sun abbia obbligato i propri, ok, impiegati, i propri lavoratori ad accettare il salario non più in fiat, quindi euro, stalline o qualsiasi voglia valuta, ma per forza in USDT e USDC. E chi non sarebbe stato alle regole sarebbe stato letteralmente licenziato. Quindi anche qui ci fa capire come qualcosa non quadra in questo momento, per quanto riguarda Justin Sun e di conseguenza anche Uobi. Poi Uobi è andato a twittare, noi stiamo lavorando duro, stiamo costruendo, stiamo, insomma, stiamo lavorando. E sempre Justin Sun è andato a twittare, questo è il momento di ignorare il FUD e di andare a costruirla. Ora vorrei mostrarvi quella che è la situazione su Uobi, perché al momento siamo a 4.70 dollari, avevamo addirittura un'alta mai a 40 dollari e siamo praticamente ai livelli del 2020. Ora, tra l'altro, io notai che proprio nel 2020, guardate qui, che dump ci fu su Uobi, ve lo dico subito di quanto, ci fu un dump, pensate, del 70% nel giro praticamente di 3 settimane. E penso che una cosa simile possa ripetersi, perché nella storia di Uobi più volte si è ripetuto, guardate qui, qui, addirittura a meno 77%, poi qui, l'abbiamo appena detto, meno 70%. E magari potrebbe essere anche una grossa occasione, ok? Però attenzione, perché abbiamo visto come un po' di exchange sono saltati. E il prossimo potrebbe essere Uobi? Sì, certo, adesso andremo a vedere anche i dati. Su 4 ore, sul daily, non ha senso, ok, secondo me fare analisi, abbiamo questo supporto sui 3.59%, però se effettivamente si è innescata una bomba su Uobi, non ha assolutamente senso, perché andremo bene al di sotto i 3.59%. Ora vorrei vedere con voi anche quelli che sono alcuni dati, scusate, per quanto riguarda Uobi, comunque la capitalizzazione è di 764 milioni, per cui comunque è poco, quindi basta davvero poco, e Uobi salterà per aria. Secondo elemento, Tron. Uobi è fortemente collegato a Justin Sun, di conseguenza anche a Tron. In questo momento capitalizzazione di mercato di 4,8 miliardi. E anche qui, secondo me, la situazione, ok, non è buona. Quello che mi attendo è anche da parte di Tron, che è un possibile dump legato a tutta la situazione Justin Sun, Tether, e di conseguenza anche Uobi. Andiamo infine a chiudere con Bitcoin. In questo momento prezzi nominali di 16.900 dollari. abbiamo questa importantissima resistenza sui 17.000. Possiamo andarla a passare? Sì, ma io vi direi no. Nel senso, andiamo a vedere il 4 ore, perlomeno non nel breve, perché sui 4 ore abbiamo fatto un 70 del SAI, quindi ipercomprato. Successivamente siamo andati giù, risposta, ma in questo momento su Bitcoin non ci sono volumi. Quindi quello che mi attendo è nuovamente tangenza di 15.5 e se effettivamente avrai innescata la bomba ad orologeria su Uobi, secondo me potremmo rivedere un altro grande dip. E per cui se ti è piaciuto questo video ti ricordo di distruggire il botone del like, iscrivervi al canale e naturalmente iscriviti anche a CryptoCowboy, trovi sotto il link in descrizione. Grazie per la visione!